Giuseppe Garibaldi perché viene chiamato l'eroe dei due mondi? Perché visse in Sud America dove fu artetice di alcune insurrezioni e fu l'eroe del nostro Risorgimento, famosissimo per aver organizzato e guidato la spedizione dei Mille. Grazie per la visione! Ciao, ai prossimi video! Vi aspetto! Grazie per la visione!